Davide Fabi, secondo classificato al premio Cambiamenti promosso dalla CNA nazionale con un progetto innovativo che però parte da lontano da Leonardo da Vinci, ce lo racconta? È un progetto che parte da Leonardo da Vinci e addirittura l'anno scorso è arrivato nello spazio. Noi abbiamo riportato in chiave moderna il Silver Point di Leonardo da Vinci che era una tecnica di scrittura molto antica che praticamente usavano in quegli anni con una punta di argento scrivere su una carta speciale che preparavano. Invece noi abbiamo ricreato questo materiale, sinterizzato un nuovo materiale tanto che riesce a scrivere oggi questa lega su carta comune, una comune carta da fotocopie. Creata la punta abbiamo pensato al suo design, quindi è una manifattura completamente italiana. Il design è curato dal nostro partner Pininfarina perché dall'anno scorso, anzi meglio da quest'anno, noi ci siamo uniti a Pininfarina in questa nuova Joy Venture per sviluppare ancora meglio il nostro progetto. Ricordiamo il nome? Signature SRL è il nome dell'azienda, Pininfarina Segno è questo hub di sviluppo nel settore dello stationery.